Ciao a tutti, oggi domenica 24 marzo mi trovo in questo posto meraviglioso che è il parco Giardino Sigurtà a Valleggio sul Mincio in provincia di Verona. È un parco gigantesco dove abbiamo visto fioriture meravigliose, qui adesso sono i tulipani, i giacinti, i crocus, i narcisi, ma poi in estate ci sono anche altri fiori specialmente la fioritura dei fiori di lotto, ci sono grandi vasche con i fiori di lotto. Poi c'è la vasca delle tartarughe, c'è un labirinto, magari poi vi lascerò qualche foto alla fine, c'è un labirinto molto grande, e noi non ci siamo neanche addentrati per non perdere troppo tempo. Poi ci sono i punti di ristoro, poi c'è un tempietto, da lontano si vede un castello scaligero che sembra far parte del parco stesso, insomma è un posto da visitare, ve lo consiglio sicuramente. Ciao ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!